benvenuti a compila quindi va eccoci qua buonasera si sente penso di sì no come l'altra volta che ho parlato mezz'ora poi mi sono accorto alla fine che non che non andava il microfono e nessuno stava sentendo niente adesso parlo piano perché potrebbe accadere anche esattamente stasera vedo delle delle barre che si muovono e quindi qualcosa ricevo adesso lasciamo la musica in sottofondo volume un po più basso hola c'è un po di gente in chat si sente bene ma più che bene è importante che si senta poi il resto adesso riducono anche un po la la musica che è un po violenta ciao a tutti ben trovati come va spero vada bene giovedì teniamo botta che domani domani venerdì ultimo giorno della settimana poi magari qualcuno lavora anche sabato non vorrei portare sfortuna io non ci so mai però saluto sandro delfi sarebbe bello chiamarsi sandro delfi quindi delfi di cognome beppe fava un po in what don'ts che qui mi dice se si legge così what don'ts mi dice che partecipa alla chat per la prima volta non so se ho già visto qualche live senza scrivere oppure magari proprio alla prima la prima comparsata che mi confermate che si sente un po di leg ho letto un po in ritardo poi mi ero un attimo assofatto alla musica e quindi ci ho messo un po a prendere il controllo della live ok ok sempre chiacchiere di rito ma giusto per così scambiare due parole mentre intanto io non è che non sto facendo niente sto cercando di spegnere tutti quelle migliori di programmi che sto ancora utilizzando il programma la prima sera che riesco a quindi diciamo hai letto da qualche parte però sì questa sera ci sono un sacco di live in corso giovedì è una serata abbastanza prolifica ma in generale e di solito io seguo un podcast stasera ce n'era un altro che faceva la stessa ora che faceva la prima la prima live su twitch più altra persona che seguo sempre sullo sviluppo più altri due che guardo un po giocare a volte è un disastro quindi per chi segue diventa defi club italia ma giusto può darsi che neanche giordano giaccaglia quindi forse è partito anche finalmente il a una velocità normale perché a volte c'è una latenza che che paurosa però è un po è un po che colpa mia che voglia tenere per tenere una risoluzione alta per poi grandire i caratteri che è una cosa abbastanza abbastanza sciocca ma me delfi club italia come vedete abbiamo il no devo indicare l'altro nell'altro senso abbiamo il gagliardetto qui sotto quindi come dire sponsor ufficiale del vabbè come sempre lo promuovo perché gruppo facebook poi di recente è stato creato anche il server discord siccome qui per chi non ne avvezza twitch ogni canale deve avere per forza serve discord io non l'ho mai voluto fare perché ho detto non voglio trovarmi anche gestire questa cosa questa cosa in più che cioè ci sta perché comunque lì si può chattare c'è la chat vocale anche volendo però quindi qualcuno del gruppo facebook è giancarlo giancarlo ci tiene e quindi il patron giancarlo va solo che ringraziato per tutto un impegno che che profonde al sull'iniziativa anche perché poi stare lì a via amministrare valerio muzio benvenuto finalmente può seguire una diretta in diretta e immagino che guardi le si di solito la diretta è meglio ma più che altro allora fosse un come dire un webinar registrato allora concordo che non cambia più di tanto però si magari la diretta tra l'altro è proprio la sera dove teoricamente con delphi non dovrei neanche aprirlo quindi in teoria per cui e tra l'altro è di solito io metto due non titoli però si diciamo cerco come faccio come le serie della serie appunto per la serie live coding di solito live coding sono cose che più o meno sono un po nelle mie corde invece le poche volte che ho fatto qualcosa stile discovery che un po il nome che si usa per dire io ci provo a fare qualcosa ma la prima volta che lo vedo non non sono sicuro di quello che posso ottenere quindi che da un lato magari meno e meno formativo nel senso classico del termine dal lato può essere più divertente perché qualunque cosa può succedere e quindi non uso python da due mesi quindi non mi ricordo la sintassi ho visto appena appena un webinar nei giorni scorsi su quello che volevo sperimentare stasera però ci tenevo perché ho detto così facciamo qualcosa anche di diverso e poi come dire un modo secondo me interessante anche per parlare di non solo di delphi ma anche di altre cose però senza allontanarsi troppo e quindi vedere anche un po il miscuglio quindi come si può mixare qualcosa di delphi con altri linguaggi come come python che io ammetto di averlo approfondito praticamente l'anno scorso quindi nel corso all'inizio dell'anno durante la prima parte dell'anno perché poi ho fatto anche un corso che ho tenuto un corso base quindi conosco le basi tra l'altro c'è un po la memoria corta quindi adesso non mi verrà in mente niente però trovo interessante questa cosa che è uscita di di python con con delphi cioè del del fatto allora già così possiamo fare qualche premessa la cosa mi ha incuriosito perché esiste già da tempo in realtà questa non è una novità chiudo un attimo il ho il programma del conto alla rovescia che mi sta flashando in faccia ho arrivato anche maurizio maurizio dm ovvero direct message la chiameremo bene arrivato no dicevo ho visto questa cosa che mi incuriosito allora ci sono componenti che ci sono già da un po per per delphi python for delphi per integrare questo questo ambiente come dire il linguaggio dinamico interpretato quindi una cosa che proprio con con delphi non dico che non dico anzi che si sposa male ma è proprio la controparte quindi se per ogni esigenza c'è un tool dedicato usarne due vuol dire beccare due esigenze in una botta sola si potrebbe dire sono componenti che ci sono da un po quindi già mi interessava un po approfondire questa integrazione per poter fare qualcosa in python e tirarlo dentro in delphi perché in python ci sono veramente come come vale per node ad esempio un sacco veramente tante librerie e quindi anche se oggi ho visto un post su facebook di andrea andrea magni che ha messo un link a un catalogo di librerie open source e c'erano listate 500 più di 500 prodotti open source quindi ok sono sistemi dove package ne esistono migliaia su migliaia però vabbè in node esistono anche dei package fatti da un file quindi oltre a tutti quelli di prova io ne ho creati almeno 10 che sono praticamente vuoti con l'hello world per cui tutte le volte che faccio un corso ne crea uno mi scordo di rimuoverlo e siccome è un po difficile perché dicono che magari qualcuno si è messo a usare il package non si può pubblicare togliere i package così liberamente a meno che non ti fai il tuo come dire il tuo repository in casa da usare con con node e quindi è un po c'è una politica un po strana però comunque come librerie sono sono tante quindi dicevo già da un po mi sarebbe piaciuto sperimentarlo poi quando ho visto questa notizia ci ho fatto anche la puntata del podcast di cui vi mando l'indirizzo col suo comando col mitico comandino podcast che è la puntata del podcast che sto cercando un po di riprendere rimettere in attività con una formula un pochino più sbrigativa cioè sotto forma di news così come dire materiale per una puntata nuova c'è abbastanza frequentemente poi essendo una cosa che che pago anche perché c'è un servizio molto fatto bene che gestisce il podcast come come storage come distribuzione quindi detto l'altro giorno cercavo una cosa su spotify ho scritto delfi è uscito sono uscito io su spotify che incredibile ho fatto una puntata ci sono hanno avuto questa interessante idea di fare una vcl per python cioè come come spiego in questa puntata del podcast molto velocemente ma adesso poi ci entriamo perché volevo ributtare un occhio sulle sulle slide che ha usato che ha usato il buone jim mckitt il evangelist diciamo di di embarcadero nel suo webinar se sei un sviluppatore python allora diciamo che soluzioni per costruire interfaccia ce ne sono alcune però un paio l'ho trovata abbastanza brutarelle tipo detta l'italiana tk inter cioè che si fa questo o come si dice sono uscito a fare un interfaccia una casellina però veramente si fa una fatica cioè non è tutte le soluzioni che si trovano in giro perché ci sono anche delle soluzioni blasonate ma come diceva jim mckitt ad esempio le qt le librerie qt che molti utilizzano da da tempo abbastanza espansa però pare che ad esempio il supporto per android non ce l'abbia questo si sente dire quindi io non le conosco in maniera approfondita magari qualcuno le conosce però so che ad esempio il supporto android non ce l'hanno quindi avere una libreria python per esempio fare monkey vuol dire poter fare un interfaccia utente che gira anche potenzialmente su android e su ovunque python può girare adesso i primi test mi piacerebbe farli con la vcl però può essere un'idea interessante perché generalmente fare un interfaccia grafica su python insomma è una cosa che richiede un certo sforzo rispetto allo sforzo minimo a cui siamo abituati noi che comunque con un'idea come delfi ci mettiamo lì creiamo le nostre finestre trasciniamo e quindi non è ovviamente la stessa cosa però ho visto anche che c'è un python exporter me lo aspettavo un po diverso perché ho buttato un occhio sempre al webinar di Jim McKitt che non avevo visto che veniva trattato perché non sono mai riuscito a guardarlo fino in fondo non ci ho avuto tempo ancora speravo fosse un qualcosa che esportasse come dire un'interfaccia fatta in delfi in istruzioni python cioè effettivamente è così però come dire c'è un set minimo di istruzioni che va a caricare un file con le proprietà del form o dei controlli quindi l'equivalente di un dfm tant'è che il file si chiama pydfm da quello che ho visto se mi ricordo bene ma poi lo vado lo vado a provare quindi e quindi c'è detto c'è una presentazione binaria delle proprietà e quindi cioè un po come il dfm ma non è un testo non sono istruzioni cioè mi sarebbe più piaciuto avere le istruzioni proprio secche proprio scritte quindi un esportatore che ti crea proprio il codice e quindi anche senza quel file ti puoi portare dietro lo script vai a creare installando il package questa questa libreria ti porti dietro questa libreria vcl con il programma crei la tua interfaccia senza bisogno di file di dati esterni e altre cose vabbè però come soluzione può essere valida perché se devo fare un prototipo e creare un'interfaccia in 4.4.8 e ho a disposizione delfi in in un paio di istanti la faccio farà da zero con python è leggermente più laborioso perché scriviamo il codice dobbiamo un po indovinare le posizioni indovinare un po la come dire il la collocazione dei controlli scrivere a mano ovviamente la creazione dei componenti quindi anche tutto ciò che facciamo visualmente va fatto a mano poi nel corso di questo webinar il buon il buon gme kit quindi ha specificato che si tratta di una cosa che dovrebbe interessare gli sviluppatori python perché comunque essendoci non tantissime soluzioni per fare delle gui se si vuole creare una guia accattivante questa può essere una soluzione interessante e open source e ancora in beta ma diceva sempre che gme kit che abbastanza stabile utilizzabile rispondendo una domanda che esprimeva anche un mio dubbio non ci troviamo ovviamente tutti i componenti che abbiamo in delfi perché ad esempio qualcuno diciamo per l'accesso ai dati ecco lì non abbiamo ovviamente fireduck perché l'obiettivo non è scrivere codice delfi in python l'obiettivo e portare in python quella cosa che magari non è presente che manca e che sarebbe utile avere cioè dei componenti già pronti per fare un'interfaccia utente tra l'altro con supporto ai temi quindi non è l'interfaccia utente come dire buttata lì ma qualcosa di un pochino curato ben arrivato air wolfen lupu lula baricado luli e quindi è una soluzione che può essere interessante io ho trovato interessante per due motivi primo perché python god di un hype esageratissimo e quindi il fatto che magari si possa parlare di qualcosa che riguarda delfi o che si o che faccia qualcosa che che porti del valore diciamo dei valori d'aggiunto in python proveniente da delfi per cose che in python sono poco disponibili è interessante perché qualcuno potrebbe dire ok inizio utilizzare inizio familiarizzare poi vedo che funziona bene vedo che una bella cosa a questo punto magari mi faccio mi scarico una delfi community mi esporto l'interfaccia da lì oppure sai che c'è inizio a sviluppare magari applicazioni delfi e python me lo importo cioè me lo utilizzo da delfi piuttosto che il viceversa quindi secondo me potrebbe essere un interessante ponte di correlazione tra tra le due cose che unisce un po i due mondi ovvero il mondo di applicazioni business visuali per l'utente finale cross platform eccetera come potrebbe piovere esatto potrebbe anche tirare una scossa visto che ieri sera qui scrive mia madre hai sentito il terremoto insieme sentito io non ho sentito niente quindi figuraccia poi sono andati in palestra esco sono tutti nel piazzale mi ho detto cavolo non ho sentito neanche la seconda non non lo faccio la voglia e quindi meglio così perché non è che ci tenga particolarmente però pare che qui ci sia stato un po di movimento dalle mie parti che le miglia reggio emilia quindi quindi nei dintorni però non finché non ci se ne accorge tutto bene quello è la cosa migliore che può che può esserci quindi speriamo che continui così tra le ultime parole famose e quindi niente quindi volevo sperimentarlo un po ho detto piuttosto che sperimentarlo da solo sperimentiamolo in compagnia e vediamo un pochino ho visto un pochino il procedimento quindi qualcosa mi mi ricordo provato ma veramente un minuto perché non ho avuto un minuto di tempo questa settimana però l'idea l'idea quindi era di scriverci un po di codice python in questo caso e provare a usare appunto la vcl per fare un come dire un un'applicazioncina ad esempio con la listbox cioè non l'hello world che propone nei demo però qualcosa di un po più interessante anche se riguardandoci poco fa ho visto che è stato aggiunto anche qualcosa un una to do list una to do app quindi qualcosa di un pochino più 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 curato nella nella home page magari si potrebbe partire da lì poi l'idea è appunto vedere un po il codice e magari parlarne così commentarlo un po in modo che se qualcuno per caso conosce non conosce python vede un po di sintassi e come dire lo sbircia lo sbircia un pochino se invece qualcuno lo conosce ecco mi dà una mano che magari potrei avere qualche problema o non ricordarmi qualcosa di preciso perché molti universitari lo fanno ma io come dire sì lo conosco ho fatto tutti gli import un paio di mesi fa ero super rodato poi ho smesso di colpo di usarlo per un mese e mezzo già non mi ricordo un dubbio che ho è sull'idea perché mi sarebbe piaciuto usare pi scripter quello di di embarcadero che viene distribuito gratuitamente fatto appunto in non ricordo se in delfi o in c++ builder forse in delfi addirittura però usando appunto quella tecnologia di python for delfi cioè di di bridge bidirezionale tra l'altro che da delfi consente di parlare con python e viceversa quindi poteva essere interessante fare pandan usando quell'idea oppure usando pycharm che ho installato oppure usando viso studio code e quindi tagliando la testa al toro sono in dubbio però siccome nel webinar usa pi scripter e come ide così mi lascia un po mi lascia un po perplesso perché non sono un po abituato al suo modo di funzionamento ero quasi tentato di usare visual studio code se adesso lo lancio così vediamo se è configurato e ci sono delle invece delle cose da fare perché qui so che posso ingrandire magari il codice e fare vedo che sta cercando degli aggiornamenti saranno sicuramente tutti gli aggiornamenti possibili immaginabili solo perché voglio iniziare a lavorarci quindi cosa sta facendo install ed ok quindi mi sono lanciato il studio code pare che non abbia trovato niente di che gli aggiornamenti no sta scaricando qualcosa sapevo io che c'era un update incredibile aggiorno sempre tutto prima di iniziare ma mancava vabbè facciamo install update così non funzionerà più e avremo risolto come dire il problema dell'ide ok adesso sta partendo quindi si scarica tutto quindi userei visual studio code e proverei un attimo a mi ero messo anche da qualche parte un paio di riferimenti per sapere perché io accumulo 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 si aggiorna aggiorna vai 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 tranquillo aggiorna questo video studio code mi ero fatto un paio di appunti proprio quattro righe ma ok adesso non li trovo più no forse li ho trovati quindi ok così posso cambiare magari anche la visual la visuale così il mio testone diventa anche più piccolo e così si si vede a giusto perché l'ho pescato c'era anche il pdf della presentazione di appunto di gm kit che è fatto scorre fatto anche benino fatto un bel lavoro quindi come dire inizia a essere già interessante questa è la parte vcl ma è stato fatto anche quello di firemonkey è carino perché c'è anche un po un'introduzione è proprio progettato per chi per uno che lavora con python quindi c'è un'introduzione anche su delfi fatta abbastanza bene secondo me a parte la presentazione si di gm kit che l'audience è ovviamente quello di principalmente legato a sviluppatori python che vogliono fare una interfaccia utente come dire un pochino accantivante con qualche tema quindi non è come spiegava bene non è una competizione tra i tool perché per ogni strumento ovviamente ci vuole qui fa vedere che sta martellando questa immagine è bellissima è la martellata della vite col filetto e la chiave quindi per ogni task ovviamente ci vuole il suo tool specifico però se c'è la possibilità come in questo caso di combinarli chiaramente è una cosa ovviamente double power quindi un'opportunità in più per riuscire a risolvere magari un task che ha bisogno di due requisiti ovvero un'interfaccia utente come si deve e però l'uso magari di librerie non so machine learning tutte quelle moderne che si usano oggi di cui python è pieno che cos'è defy for python quindi qui c'è un repilogo così se non l'avete vista sono dei quindi sono dei moduli per cui cosa andremo installare in realtà andremo installare con il package manager di python dei moduli di python quindi siamo in ambiente python defy non è come c'è scritto qui non è richiesto non è obbligatorio può anche non essere utilizzato quindi dei moduli vuol dire che scaricheremo degli script con delle classi che di fatto sono moduli che vanno a vrappare sfruttando questa tecnologia quindi comunque c'è una parte compilata non ho ancora esaminato gli internals però non ho scritto niente in python neanche hello world ma sono sempre incuriosito a questo incontro infatti anch'io poi c'è qualcuno nel gruppo di defy club italia che ci lavora abitualmente per cui sarebbe interessante una condivisione proprio a livello di una bella cioè proprio un po più ad alto livello qualcosa di formativo però non si sa mai e quindi questi questi moduli vanno ad aggiungere un po di interfaccia sfruttando questo bridge bidirezionale che è una bella cosa poi va beh c'è ovviamente una cronistoria dei linguaggi perché uno dice ma usa ancora delphi che linguaggio vecchio comunque python è del 91 è ovvio che dal 91 aggiornamenti ne sono stati ne sono stati fatti così come abbiamo aggiornamenti di delphi so che di delphi non so perché non viene naturale pensare che di aggiornamenti ce ne siano per tutti gli altri linguaggi questo è automatico è una cosa che andremo a sviscerare cioè mi sto appuntando tutti questi questi aspetti un po strani che prima o poi li andremo a sviscerare in qualche modo in come dire in occasione di qualche di qualche sessione dedicata appunto all'argomento quindi c'è un po di storia dei linguaggi dal pascal poi turbo pascal le varie storie di delphi quindi andando avanti c'è il dna di delphi quindi queste sono le cose che come dire per uno sviluppatore python può interessare può essere interessante sapere perché potendo c'è la questione del bridge può interessare anche nel fatto che senza usare quei componenti delphi vcl se qualcuno ha bisogno di certe funzionalità certe feature ad esempio tralasciamo l'interfaccia utente però delphi non è solo l'interfaccia utente ma sappiamo che c'è la questione della produttività cioè l'interfaccia utente la facciamo in pochi minuti che il codice si è facile da leggere lo stesso vale per python e abbiamo quindi una parte compilata quindi veloce perché essendo compilata a differenza di python che interpretato a meno di non incapsulare il tutto in un eseguibile ci sono alcune soluzioni c'è l'accesso ai database semplificato io aggiungerei cioè c'è dalle database con delphi è uno schiocco di dita più il modello generale a cui siamo abituati di gestire tutto con metodi proprietà eventi in maniera interattiva con leader e anche quella capacità di passare da questo livello abbastanza alto di sviluppo di progettazione a un livello che va giù proprio fino al come si dice al metallo quindi to the metal come si dice cioè se facciamo un'app android abbiamo i servizi abbiamo tutto se ci manca qualcosa importiamo l'epi la chiamiamo direttamente come faremo quasi in assembler quindi addirittura ci sono delle istruzioni nel rtl di divina assembler quindi possiamo fare tutto il percorso fin dalla cima dal livello più alto fino a quello più più basso non è una cosa da poco designer visuali applicazioni come dire affidabili perché c'è un sistema di eccezioni quindi comunque che non si bloccano non fanno come il vecchio visual basic c'è stato un errore cosa vuoi fare debug o fine quindi debug sei l'ambiente altrimenti scegli fine chiudi il programma e chi si è visto si è visto poi tutti i componenti che ci sono dentro che sono veramente tantissimi quindi può essere chiaramente interessante per un sviluppatore python grazie a questi aspetti poi ci sono le guide in principle lo zen di python ci sono alcune frasi che sono in corsivo perché questa è una cosa tra l'altro che appare in python con un'istruzione che non mi ricordo qual è ma scrivendola esce fuori addirittura questa pappardella di principi un po curiosi e quindi non mi ricordo adesso cosa bisogna scrivere però viene fuori proprio stampata questa questa roba qui e alcune cose sono ovviamente in comune anche tra noi che sviluppiamo in delfi perché c'è ad esempio esplici readability counts quindi la leggibilità conta se vabbè un implementazione difficile da spiegare una cattiva idea alcune cose sono ovviamente now is better than never vabbè c'è anche un po di po di marketing un po di poi si fa questa comparazione ovviamente tra tra dei python inteso come differenze legate le cose più rilevanti che conosciamo sono ovviamente quelle del della sua del taglio commerciale di delfi contrapposto al fatto che python open source delfi staticaly typed quindi abbiamo un linguaggio tipizzato fortemente esplicito o inferred perché ultimamente sono con le dichiarazioni delle variabili in line possiamo anche stabilire il tipo delle variabili in base al valore che assegniamo però quando il tipo è quello il tipo è quello mentre in python come in javascript e nella maggior parte dei linguaggi dinamici abbiamo una variabile se gli assegniamo una stringa una stringa se li mettiamo un numero un numero e quindi a meno che non non introduciamo ad esempio typescript lato javascript i tipi come dire possono cambiare in qualsiasi momento abbiamo la gestione della memoria che conosciamo col modello di ownership quindi dobbiamo farla free e se usiamo componenti li mettiamo in una catena dove l'owner c'è quello che è in come dire è incaricato di distruggere tutti i componenti che fanno capo a quel componente che appunto è l'owner è il principio tale per cui non dobbiamo distruggere tutti i componenti che sono su un form e quando li trasciniamo perché tutti i componenti hanno il form come owner e quindi quando l'owner viene distrutto vengono distrutti automaticamente questo viene indicato qui è importante saperlo per uno sviluppatore python perché in ogni caso anche se python come scritto gay garbage collected quelle sono risorse windows cioè se creiamo un editor stiamo creando un handle di windows e quindi è bene quando non serve più distruggere il primo possibile e lasciare che python si occupi poi di di allocare l'oggetto python che fa il devrapper però dovremmo avere sempre cura di liberare le risorse che non usiamo più il prima possibile questo poi vale in dotnet e vale in qualsiasi linguaggio quindi anche se c'è il garbage collector una deallocazione non dispose detto in maniera generica va fatto preferibilmente in ogni caso quindi noi che lavoriamo in delfi se chi lavora in delfi quindi la maggior parte di quelli che al momento sono sono in chat direi siamo più che abituati perché noi lo facciamo da da sempre e in qualsiasi anche per per tutte le occasioni quindi ogni volta almeno dovremmo farlo quindi io lo faccio poi best practice libreria riutilizzabili c'è la possibilità di programmazione oggetti community di sviluppatori fanatici ecco quelli di defi dovrebbero essere un po più fanatici no dai siamo abbastanza fanatici tutto sommato quindi e qui c'è un nuovo riepilogo della dei livelli di sviluppo quindi con delfi che mixa un po tutte queste cose e quindi passa dal gestire istruzioni assembly puntatori e pi quindi massima flessibilità e massimo il livello più basso che si può raggiungere fino al livello più alto con componenti visuali soluzioni low code punta clicca via e quindi le soluzioni più produttive da questo punto di vista qui c'è di nuovo la spiegazione ovviamente che la vcl è specifica per windows quindi è un api leggera di componenti con funzionalità e controlli che sono l'equivalente di widget in altre piattaforme che racchiudono la logica che va poi a implementare in questo caso le chiamate l'api di windows per creare dei dei controlli più tutta una serie di controlli disegnati custom in aggiunta che sono belli perché hanno l'aspetto di windows nuovo ma funzionano anche su quelli vecchi in certi casi quindi come dire anche qui c'è sempre l'unione di di più cose utili ed esclusive che su altri framework non troviamo qui siamo specificatamente su windows mentre quando parliamo di firemonkey parliamo invece di una libreria grafica che disegna delle interfacce praticamente da da zero con delle funzioni primitive di disegno cioè in queste live firemonkey l'abbiamo usato tantissimo non è uno a uno con la con la vcl ma è molto simile e ha la caratteristica di essere cross platform e di disegnare l'interfaccia in base allo standard che si trova sul sistema operativo di riferimento quindi noi facciamo un'applicazione se la portiamo su android non so la le caption nei testi ma uscoletto e le schede in basso se andiamo su ios in alto cioè su ios li troviamo in basso bianche con le scrittine azzurrine e quindi con lo stile magari dell'ecosistema apple disegnate da zero con stili standard che si possono ridefinire e quindi anche stravolgere per creare un design che non appartiene nessuno di questi sistemi operativi e a quel punto diventa una interfaccia totalmente esclusiva su qualsiasi sistema cioè diversificabile per sistema potrebbe essere la stessa su tutti i sistemi e completamente diversa da quello che siamo abituati a usare perché magari usa pulsanti tutti i ton di icone fatti in un certo modo colori con uno standard proprio a quel punto proprio svaghiamo il tutto grazie poi il fatto che sfrutta la gpu e quindi con la possibilità di inserire gpu effetti animazioni e chi più ne ha più ne metta quindi molto flessibile non identico alla vcl ma molto simile per cui imparate un paio di cose chi sa usarla prima grosso modo non si trova in difficoltà a imparare utilizzare anche file monkey perché è molto simile da certi punti di vista e molti componenti sono anche in comune però dal lato visuale come dire sistema degli stili ci sono un po di differenze legate appunto a quegli aspetti che sono diversi ovvero se parliamo di posizionamento non abbiamo dei pixel ma abbiamo dei valori in virgola mobile abbiamo magari delle interfacce 2d ma abbiamo anche del 3d abbiamo tutto ciò che un ecosistema grafico ci mette a disposizione in più che ovviamente è molto più flessibile anche perché potremmo mettere un pulsante dentro un edit dentro e mettere tutti questi due dentro un altro pulsante possiamo comporre l'interfaccia esattamente come vogliamo e quindi a una flessibilità estrema grazie proprio al fatto che viene disegnata interamente quindi con la possibilità però di usare anche i controlli nativi se serve su tutte le piattaforme questa è una cosa che l'altra sera c'era una live dove si presentava flutter ho fatto questa domanda ma si può usare anche volendo al posto dei widget dei componenti proprio nativi la risposta è stata sì volendo con un scamotare si può ma non vedo il perché in realtà ci sono molti scenari alcuni scenari dove questo è un requisito perché se abbiamo degli screen reader o dei tool installati sul telefono per l'accessibilità non funzionano ovviamente con tutto ciò che ha disegnato custom perché il loro modo di lavorare prevede di integrarsi su quei controlli che vengono creati usando le chiamate all'API proprio specifiche della piattaforma quindi se non si è creata una casella di testo che non è quella nativa magari su iOS quello strumento il correttore ortografico e tante altre cose non funzionano quindi non è proprio una cosa secondaria e quindi non ho detto siccome non è così facile non serve in realtà serve però in delfi si fa presto perché c'è lo stile diciamo del componente c'è o styled o c'è platform quindi c'è anche la possibilità di dire fammelo nativo e usa quello nativo chiaramente non abbiamo dopo possibilità di stilizzarlo in maniera custom perché è una cosa che perdiamo però andiamo a creare un controllo effettivamente con l'API della piattaforma quindi è lo stesso che viene creato in Swift che viene creato in se parliamo di iOS in qualsiasi ambiente di sviluppo che lavora stato a contatto con la piattaforma poi da quando è stato risolto il bug dello z order che non era una cosa da poco si integra perfettamente anche con i componenti con gli altri controlli disegnati per cui c'è qualche ovviamente cosa da limare come sempre e questo lo sappiamo però tutto sommato è molto versatile a me piace molto come delfi tour direi di non farlo così come introduzione a delfi magari lo dopo quando facciamo un'interfaccia come dire in delfi possiamo provare quello exporter e vedere questo è interessante perché fa vedere cosa è stato portato in queste librerie per python ovvero delfi vcl for python windows 32 bit 64 bit e basta sono supportati vabbè c'è la praticamente la gamma di compatibilità che al momento abbiamo sulla sulla vcl ci sono componenti attivi di windows e quello che abbiamo sono gli handle di windows i controlli come dire standard win32 messaggi e abbiamo anche il sistema di styling quindi possiamo fare anche le interfaccine blu gialle verdi quindi quella è una cosa interessante da avere perché proprio il tocco che magari rende un'interfaccia personalizzata pure se fatta da uno script da uno script python il firemonkey magari la vediamo dopo però vale lo stesso discorso quindi le compatibilità delle quello che non troviamo ovviamente è una roba tipo fire duck non troviamo interbase express cioè non aspettiamoci di trovarci tutto ciò che generalmente non è presente perché andrebbe sviluppato in python cioè l'obiettivo è fare un'interfaccia utente e gestirla e però la logica andrà da scrivere in python e non e non in in delphi compresi logica degli eventi e tutte queste cose qui per cui non dobbiamo appunto aspettarci di avere tutto quello che c'è nella 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 vcl qui ci sono le istruzioni per l'installazione quindi io partirei da qui ovvero andare installare il package e c'è anche l'indirizzo ovviamente del del progetto sul sito del package manager e sul sito github quindi per poterlo utilizzare in uno script python la prima cosa da fare ovviamente è andarsi a installare queste queste librerie la cosa è abbastanza agevole perché quindi io me li parcheggio un attimo giù mi tiro su un terminalino così lavoriamo lavoriamo qui io ho un'installazione come dire di python abbastanza fresca quindi non so se si vede bene però col terminal il windows terminal è molto flessibile l'ho aggiornato tra l'altro ieri quindi la revisione 2 della versione della versione di ci scrivete se installate python ah giusto fin come ci sono un po di delfisti che invece magari non hanno visto python qualcuno possiamo anche fare un giro e vedere che cosa comporta installare python è molto semplice vediamo intanto se mi risponde sì c'è la versione 3.10.2 che è proprio l'ultima per installare python è molto semplice si va sul sito python.org si sceglie download e generalmente il browser leggendo probabilmente lo user agent della richiesta capisce il sistema operativo ci propone già come dire cosa andare installare in questo caso il download per windows quindi quello che noi andiamo installare è l'interprete cioè quel programma che prende gli script python e poi se li va a eseguire quindi il codice che noi scriviamo il bello di python è appunto l'essere cross platform ovvero portiamo in giro il nostro script e ovunque ci sia un interprete python lo possiamo andare a lanciare ed eseguire chiaramente nel momento poi in cui accediamo file system e altre cose dobbiamo ovviamente adattarci un po allo standard però se non è lavorato per dire con con delfi anche a questo livello abbiamo i servizi cioè noi abbiamo delle funzioni poi questo ovviamente dove il sistema operativo è determinante cambiano comportamenti o percorsi di default ma per il resto rimane tutto uguale quindi abbiamo windows mac altre piattaforme quindi scaricando questo per windows io vabbè adesso non lo scarico ma ci scarica un exe che è abbastanza abbastanza easy da usare perché avanti 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 vi va a chiedere il percorso quindi sotto c program file mette l'interprete python regista dei percorsi nell'ambiente e quindi non ho capito il pollice di maurizio era generale e quindi installa tutto quello che serve per cui non ci sono come dire tutto in maniera molto molto semplice se avete già tra l'altro python installato vi fa anche l'aggiornamento cioè se quello che avete scaricato l'installer di una versione nuova e ne trova una presente e dice vuoi aggiornarla voi dite di sì e vi fa l'aggiornamento tranquillamente vi trovate poi qualche comando qui nel menu di windows quindi l'interpret è abbastanza classico e poi per lavorarci potete usare appunto visual studio code oppure PyCharm che è della JetBrains quella società che fa quegli IDE che mi piacerebbe veramente che ci si prendesse un po' di spunto da imbarcadero perché sono fantastici proprio come IDE cioè sono proprio belli come IDE oppure usando PyScripter che è quello di imbarcadero che comunque è gratuito e si può scaricare è fatto appunto con Delphi e Python for Delphi quindi ha il suo sitarello open source anche questo open source quindi si scarica a gratis è abbastanza leggero ha tutte le caratteristiche che vengono fuori PHP Storm che è un altro io uso WebStorm non lavoro in PHP ma lavoro con JavaScript WebStorm è molto anche IntelliJ io apprezzo in particolare come prodotto Resharper che è un add-on che si mette su Visual Studio lo metto pure nelle ultime versioni perché il modo in cui funziona rifattorizza mi piace molto di più rispetto a quello incorporato e io continuo a essere dell'idea che Visual Studio è quella cosa che va che è quella donna che va installata per far girare Resharper cioè quindi no fanno degli ottimi prodotti non c'è niente da dire è quello tra l'altro con dei costi molto contenuti perché WebStorm penso che allo stato attuale ma anche le Sharper si aggiorni con un centone alla fine WebStorm penso che costi una cinquantina o sessantina di euro e per gente che lavora con JavaScript, frontend, Angular, React è una cosa veramente fenomenale da quel punto di vista quindi io mi uso Visual Studio Code se usate Visual Studio Code in generale dovrebbe essere sufficiente creare proprio il primo script quando Visual Studio Code vede che è uno script Python vi dice ma non è che ti piacerebbe installarti un po' tutte queste estensioni e vi propone tutta sta, ve ne propone alcune tra quelle più blasonate inclusa una che è diciamo è quella ufficiale però poi a corredo ne seguono altre dove ci sono ad esempio degli snippet c'è un linter ci sono quindi quei tool che ti dicono se il codice che hai scritto funziona bene ma JS con PHPStorm funziona benissimo sì cioè se tu lo devi usare con PHP hai anche quella parte lì io non uso PHP quindi uso usando WebStorm hai tutto tranne PHP quindi c'è però sì altrimenti è uguale quindi è proprio perfetto intendevo dire quello lì quindi io qui ho installato non so perché è un C++ non mi chiedo perché l'ho installato ho il Live Server o addirittura Delphi LSP che non ancora devo provare ma proprio lo proverò e ho una serie di perché se usate Visual Studio Code sapete che è un IDE che parte praticamente vuoto e il suo diventare editor per un ambiente un linguaggio particolare lo si ottiene grazie al fatto che si installano delle estensioni quindi quello è il vantaggio che si ottiene per poter installare e utilizzare Delphi VCL bisogna che installiamo i package e quindi cosa possiamo fare possiamo fare se non ricordo male io ho fatto un ripulisti quindi dovrei partire proprio da zero perché volevo siccome magari ci sono delle patch c'è il package manager di python che si chiama appunto pip 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 quindi come avete con node npm install qui con python abbiamo pip install e poi c'è il nome del package che ad esempio è Delphi VCL una volta ho avuto bisogno di siccome mi fa delle cache di aggiungerci anche un no cache no cache dir dovrebbe essere il il comando corretto mi dirà che non è non è quello non è l'opzione giusta ma perché a volte capita di dover disinstallare però se fa una cache se voi lo rinstallate lo riprende dal disco dove era e quindi non vorrei non vorrei che ci facesse delle cache magari se ho bisogno di aggiornarlo vabbè in linea di massima direi che install Delphi VCL comunque è l'istruzione fatto questo dovrebbe partire il package manager che si trova scaricato 2 mega di roba tutto qui si trova default user installation ok si va bene tanto va benissimo è andato sul sito pi pi org pip org e quindi sembra sembra una cosa sconcia ha trovato il package e ha scaricato la versione corrispondente al linguaggio che stiamo usando perché prima nella slide hanno indicato se non ricordo male appunto le versioni di python che sono supportate quindi la versione 2 ad esempio che è molto vecchia è stata come dire deprecata adesso c'è la versione 3 c'è 3.6 3.7 quindi la 3.10 l'ultima quindi noi siamo tranquilli io l'ultima però magari per qualcuno che ha una versione più vecchia potrebbe eventualmente non funzionare anche se secondo me qui andiamo indietro anche di qualche anno quindi dovremmo essere abbastanza anche per chi magari l'ha già installato dovrebbe essere tranquillo se no si fa l'aggiornamento e si procede tranquillamente quindi installato il package e il package a cosa serve il package installa dei moduli perché noi da script python possiamo importare altri script gli altri script o li peschiamo dalla cartella corrente sotto cartella oppure stanno all'interno di una cartella globale che contiene tutti gli script che abbiamo scaricato come package usando il il package manager ovviamente se vogliamo toglierlo facciamo il pip uninstall e lo eliminiamo dai package installati quindi niente di niente di particolare di solito per fare una prova di installazione a meno Jim McKitt faceva questa prova entrava lanciava l'interprete quindi se scrivete python version vi da la versione se scrivete python e basta vi trovate nell'ambiente nell'ambiente di python tradizionale interattivo quindi potete qui potete già scrivere print hello e fare ho già sbagliato la sintassi ok partiamo benissimo siamo già partiti bene e quindi lì potete testare un po' il funzionamento del linguaggio a uguale 5b uguale 2 s uguale a più b insomma fare un po' di print stampa la somma fate fate un po' di poci cioè qui è un po' il punto dove si può andare tra l'altro non state la finezza manca le parentesi volevi scrivere questo cioè che non è male tra l'altro funziona anche se io scrivo una cosa del tipo prompt s scrive name prompt is not defined did you mean print cioè mi dà anche i suggerimenti del secondo me è una cosa che penso abbiano introdotto abbastanza di recente perché prima lo usavo e mi sbagliavo a volte a scrivere dei comandi non lo vedevo poi a un certo punto ho fatto l'aggiornamento è comparso faranno un controllo fonetico di caratteri su delle istruzioni simili non lo so tra l'altro c'è un comando carino ad esempio che si chiama dir che non ha a che fare con l'editor correva l'anno 1982 quando facevo questo ma allora forse mi sbaglio io non lo so c'è questo dir che fa praticamente vedere cioè questo è un ambiente dinamico quindi è un interprete che parte scevro e poi gli viene caricata roba uno zx81 ma davvero c'era una cosa del genere nel senso che ti diceva cioè che usavi un interprete oppure che ti diceva ti suggeriva l'istruzione giusta perché vabbè l'interprete o il basic ce l'avevo anch'io sul big 20 sul big 20 c'era il commodore 16 quindi in questo caso c'è questo dir che fa vedere un po' tutto quello che noi abbiamo a disposizione nell'ambiente infatti qui si vede tutta roba built in annotation built in doc name package e poi vediamo che c'è abs che sono le variabili che abbiamo appena dichiarato e che abbiamo introdotto nell'ambiente quindi questo dir di solito è un po' come fare un viaggio nello scope se gli date un oggetto vi tira fuori settavo variabili e facevo print no sì quello lo facevo anch'io però se sbagliavo mi diceva syntax error attaccati anzi senza neanche attaccati non mi diceva ma forse volevi scrivere quindi questo dir è un po' come esplorare l'ambiente se gli date un oggetto vi fa vedere i campi che ci sono dentro le funzioni il Commodore 16 è venuto dopo beh sì io ero piccolino mi hanno messo in braccio sto biscottone nero tutto fiammante quindi ho detto accidenti che che giochi ci sono poi ho visto che scrivendogli delle cose lui le faceva c'era il manuale c'era il manuale che faceva tipo spirale nel 64 c'erano le mongolfiere nel Commodore 16 c'era una spirale e io ho iniziato a scrivere sta roba dicendo boh io la ricopio uguale uguale quando ho visto che faceva sta roba ho detto ah ma quindi gli puoi dire cosa fare e da lì la mente viaggia dici da grande farò tutte queste robe mi metterò a programmare poi ti trovi a fare dei gestionali e io vabbè no ok quindi questo dir c'è utile perché per fare un test se abbiamo caricato correttamente questo package possiamo scrivere ad esempio from delphi vcl che è il nome del modulo import importiamo asterisco cioè tutto in questo caso e se facciamo questa operazione dovremmo aver caricato nell'ambiente tutto quello che più o meno fa parte del soprattutto buona parte poi vediamo se li facciamo un altro dir viene fuori della roba che magari per un sviluppatore python non è così familiare ma per noi lo dovrebbe essere perché c'è abort action action list c'è un button quindi qui già potremmo l'attivity indicator quindi ci hanno messo dentro veramente di tutto oppure gli activity indicator la paint box il page control quindi c'è addirittura l'open dialogue ci sono le dialogue quindi non è che c'è poca cosa c'è quasi tutta la creme della vcl in questo caso lo shape la scroll bar lo speed button quindi c'è la track bar c'è dentro di tutto poi ci sono le costanti dei colori quindi vediamo roba quelle delle message box quindi vediamo roba che per noi del fist è abbastanza familiare se usiamo la vcl ma magari per uno che sviluppa con python non lo è che si fa quindi vabbè qui chiudo perché non ho intenzione di scrivere nell'interprete quindi faccio un bel quit e chi si è visto si è visto è un exit preferisco scrivere qui dentro e provare a fare uno script così vediamo se riusciamo a far comparire qualcosa select language start typing di solito si sceglie un linguaggio si va a fare un file tanto dal momento in cui lo salviamo come file python con estensione py dovrebbe essere già come dire l'ambiente già si predispone quindi adesso mi faccio un to do py quindi estensione py è la classica per gli script e quindi ecco che il buon visual studio code si è accorto che è uno script e lui non ha un interprete o meno non ce l'ha di default devi selezionare un interprete per abilitare intellisense linking debugging e quant'altro io gli faccio prendere beh quello di 310 che è quello tipico quindi c'è quello che ho poi installato quindi perché ovviamente quello che lanciamo dovrà essere eseguito con l'interprete qui video studio code ha una sua command palette che trovate qui ad esempio c'è toggle terminal che tira su il terminale e da lì possiamo lanciare i programmi oppure dal momento in cui l'abbiamo salvata abbiamo scelto l'interprete abbiamo anche un play qui quindi il play ci manda in esecuzione automaticamente il nostro il nostro scripettino dunque che potremmo fare vediamo vediamo un attimo allora intanto mi magari bevo un goccio d'acqua così sarebbe interessante andare a vedere sul c'è un esempio abbastanza esteso un po' curato sul redmi però qui non si capisce nulla perché è scritto in markdown e quindi vabbè in questo caso vediamo di copiarlo un po' quella volta e poi di fare un ok allora intanto come ho detto mi bevo un goccio d'acqua e poi possiamo iniziare a scrivere un po' di codice ci voleva non c'è più voce allora allora mi ricopio paro paro l'esempio anzi un po' me lo cambierò perché magari diciamo che allora lo script python generalmente scrivete codice lo lanciate l'interprete ve lo ve lo esegue ma c'è anche la possibilità di creare come dire delle procedure e mettere magari del codice all'interno di queste procedure e andare a invocare per creare come dire un po' una struttura cioè uno script un pochino appena un po' più strutturato però noi non siamo bravi programmatori no in realtà lo siamo dai quindi a questo punto andiamo a fare le cose con camera la prima cosa che dobbiamo fare come poi abbiamo fatto prima nell'interprete è andare a farci un'importazione della della vcl all'interno del nostro script perché questo è quello che ci consente di come dire andare a a importare tutto ciò che fa parte di quel modulo e quindi della della vcl stavo pensando stavo guardando adesso vedo se se riesco un attimo a recuperarlo perché si apre qui e quindi non vorrei fare della confusione allora in realtà in termini di importazione noi abbiamo diverse possibilità quindi quindi stiamo usando come dire una però abbiamo un main import allora possiamo farla in tante modi questo probabilmente è quello che ci consente di scrivere un po' meno cioè le importazioni dei moduli si possono fare in tante modalità diverse possiamo fare ad esempio questo me lo tengo un attimo potremmo fare import delfi vcl che vuol dire stiamo importando il modulo e quel delfi vcl è un po' il cappello di tutto ovvero se lo scriviamo e facciamo un punto dovremmo trovarci all'interno tutto ciò che fa parte come dire cioè ad esempio il form diventa dovremmo scriverlo così la classe form abbiamo un prefisso che contiene tutto il contenuto del modulo che andiamo importare potremmo dargli anche un alias se non ricordo male forse con con es mi sembra cioè possiamo rinominare questo con qualcosa di più piccolo ad esempio vcl ecco il punto se scriviamo così è ok l'abbiamo rinominato se facciamo l'importazione from delfi vcl import asterisco è come se non importassimo tutto il contenuto del modulo a come dire in primo piano e quindi come dirla in altri termini possiamo possiamo importare anche singole funzioni specifiche potremmo importare anche solo form potremmo in questo caso se vogliamo importare tutto facciamo qui ci mettiamo un from facciamo un import asterisco che vuol dire che tutto ciò che c'è nel modulo finisce nello scope in primo piano quindi possiamo utilizzarlo direttamente nel codice senza nessun prefisso che secondo me al momento è la cosa magari un po' più comoda vabbè questa roba di sintassi sono nonché cosa che mi ricordo del buon python cioè per dire adesso c'è un momento ad esempio di lapsus e non mi ricordo non mi ricordo anzi adesso mi è venuta in mente la storia dei commenti si con lo sharp che scemo infatti non mi ricordavo ok quindi in questo caso il package l'abbiamo scaricato questo l'abbiamo scritto proseguiamo cosa andiamo a fare andiamo a fare un main in realtà il main è tutto il codice che scrivete qui di seguito è già un come dire un programma un programma main perché io lo lancio vedete che sulla console mi va a scrivere mi scrive ciao e quindi il programma viene eseguito nel momento in cui voi lanciate il vostro programma viene chiamato l'interprete tra l'altro qua si vede anche la riga di comando python ex temp to do punto py e quindi lancia l'interprete e mandi in esecuzione il nostro programma molto molto semplicemente quindi quello che scrivete è già di per sé un main ma se volessimo fare un minimo di architettura o come dire fare un po' di metterlo sotto un main effettivo ci andiamo a creare una procedura che si chiama main e poi la andiamo la andiamo a invocare per fare delle procedure c'è la sintassi def il nome della procedura main e qui tutti i blocchi iniziano mettendo un due punti e poi quando andate a capo iniziate siete costretti anzi a scrivere il codice a scrivere il codice della procedura quindi questo codice appartiene nella procedura fino a quando sarà indentato al livello più interno quindi python ragiona così quindi per gli sviluppatori che non hanno molta voglia di indentare il codice python è un po' un problema perché se volete lasciare la procedura vuota non potete lasciarla così perché siccome vede due punti andando a capo l'editor si sposta già in avanti perché dà per scontato che noi stiamo iniziando a scrivere qualcosa all'interno del codice però se non scriviamo niente non è contento perché abbiamo aperto una struttura che è vuota tra l'altro ogni istruzione di python la cosa un po' bella e brutta di questo linguaggio è che ogni istruzione fa qualcosa cioè se pensate a Delphi è un begin on end begin on end non sono due istruzioni che materialmente eseguono cioè la loro funzionalità è quella di come dire andare alla fine dei conti a racchiudere un pezzo di codice siccome qui c'è il due punto e il ritorno a capo e non c'è quella quell'architettura se volessimo lasciare quella procedura vuota non potremmo farlo a meno di non metterci un qualcosa che non faccia nulla tipo non è no ma è pass questa istruzione pass che sta per non fare niente passa avanti c'è un'istruzione che non fa nulla ma siccome occupa il suo posto a questo punto la procedura siccome abbiamo scritto almeno una riga è valida finché noi scriviamo di seguito quindi qui sotto andiamo di seguito ok questa roba fa parte della procedura appena torniamo a capo vuol dire che torniamo nel programma principale in questo caso quindi l'indentazione qui è quella che regola praticamente la struttura del codice quindi se voglio mettere qualcosa in questa procedura main quando l'ho dichiarata due punti e scrivo di seguito le istruzioni nel main che ci andiamo a buttare dentro di bello allora dobbiamo utilizzare le istruzioni che più o meno troviamo nel source dei programmi vcl allo stesso modo qui la utilizziamo allo stesso modo ma con la sintassi di python quindi generalmente cosa abbiamo abbiamo un oggetto application in delphi con initialize qui bisognerebbe trovare il modo di fargli vedere anche i package di fargli vedere i package nelle cartelle qui bisognerebbe configurare un attimo l'estensione però per il momento la ignoro intanto vedo se funziona tutto lo stesso quindi cosa facciamo di solito facciamo le nostre cose da fare ok la nostra to do list mettiamo il title e a questo punto andremo a creare il nostro main form creo il form principale che al momento ancora non ho fatto e poi andrei di fatto a visualizzarlo e a fare a un certo punto application run che è poi l'istruzione che fa partire il nostro loop in quel momento finché l'applicazione gira il programma gira quando termina quando noi chiudiamo la finestra quella run esce e tutto viene diallocato e quindi termina così ok questo potrebbe essere una versione iniziale del nostro main quindi molto simile a quello che scriviamo sulla vcl se vado a capo ancora e torno all'inizio vuol dire che torno questo diciamo il nostro codice sta definendo una procedura e poi questa viene solo definita scrivo questo così la vado anche a eseguire e a quel punto ho completato come dire il mio il mio programma in realtà no non lo lancio perché non avendo poi l'app il form non so neanche poi si può succedere qualcosa o meno quindi quello che ci manca è il nostro mainform questo non so da dove se l'è inventato forse l'ho scritto per sbaglio prima quindi andiamo a fare la classe del mainform questa sarà molto simile almeno inizialmente al mainform della vcl quindi in python usiamo chiamiamola mainform la classe viene definita in questo modo con tra parentesi la classe base da cui ereditiamo ovvero form quindi vedete che lui si è già spostato indentato all'interno perché ci aspetta che noi a questo punto andiamo a mettere dentro ad esempio una procedura se noi facciamo una procedura def chiamiamola dummy ok o un classico fu o pippo per dire in italiano e andiamo a capo e questo qua è praticamente un metodo niente di più niente di meno è un metodo non valido perché qui è vuoto mettiamo pass abbiamo fatto abbiamo creato un metodo dentro la nostra classe quindi vedete è molto espressivo come linguaggio è molto in realtà un metodo dobbiamo definirlo ma è il costruttore quindi in delfi abbiamo la create qui abbiamo come def per convenzione un metodo che si chiama init tra l'altro c'è un mega template che ci completa in automatico addirittura delfi un po' troppo un po' troppo in automatico però ci sta quindi sto guardando se questo è proprio necessario mi ha scritto già un po' troppe un po' troppe robe ok quindi questo è il costruttore metto un attimo un segnaposto e poi vediamo cosa andarci a mettere dentro in realtà quello che dovremmo inserire qui è la creazione dei controlli e delle cose che vogliamo vedere sulla nostra finestra principale perché non abbiamo lead non abbiamo a meno che non usiamo l'export e il dfm quindi dobbiamo fare un po' tutto tramite codice una cosa che vedo nell'esempio è ad esempio self caption quindi questo self è ovviamente qui si usa proprio lo stesso nome quindi ha anche lo stesso significato quando andiamo a chiamare sugli oggetti dei metodi questo è il runtime come dire in automatico passa come parametro a questo self un riferimento all'oggetto quindi il self ha proprio lo stesso significato che ha per noi in delphi in questo caso lo usiamo per impostare la caption chiamiamo cose da fare e chiamiamo anche questo metodo che vedo nell'esempio che probabilmente fisserà la dimensione direi della nostra finestra purtroppo non abbiamo l'editor visuale e ce lo dobbiamo gestire un pochino un pochino così beh questo possiamo anche toglierlo io qui poi posso lasciare uno spazio cioè finché rimango indentato sotto questo def init sto sempre proseguendo nella scrittura del costruttore ci andiamo ad esempio a creare una una non so una una label qui nell'esempio vedo c'è un un task vabbè lì adesso il cambio nome perché non mi piace facciamo int label cioè una label di suggerimento su quello che c'è da fare qui dobbiamo andare a creare una label la convenzione qui in python è usare questo label che c'è anche tra l'altro in tk inter ma non è non è la stessa questa è quella della vcl quindi vcl è meglio come se dire quindi questo è l'equivalente del costruttore cioè chiamare il nome della classe in questo modo è l'equivalente di però quello l'ho installato come package come mai non lo vede quello lo vede questo no non lo so quindi in questo caso il costruttore a cui quindi la create di Delphi a cui generalmente passiamo il suo owner ovvero sempre self cioè rendiamo il form l'owner della label in modo che quando facciamo schiattare il form lo distruggiamo venga distrutto anche il controllo normalmente non dovremmo scriverlo non lo scriviamo perché noi andiamo con drag and drop in Delphi ma qui si scrive tramite codice e quindi la convenzione in python è usare il minuscolo con degli underscore in mezzo che separano gli spazi e il maiuscolo per le classi o comunque per quegli identificatori che comunque definiscono dei tipi qui abbiamo creato quindi la nostra label facciamo quindi sulla nostra label andiamo ad agire in diversi modi anzi non uguale facciamo questo set props che è una funzione che serve per andare a impostare le proprietà della label più o meno come faremmo in Delphi ovvero dobbiamo indicargli il parent anche se questo generalmente viene impostato in automatico perché altrimenti non la vediamo quindi l'owner e il parent sapete sempre che sono due concetti slegati poi c'è la caption per dire che cosa ci va mostrato sopra e qui scrivi le cose da fare scrivi una nuova cosa da fare perché c'è un edit con la nostra textbox con dentro queste informazioni ovviamente l'abbiamo creata l'abbiamo valorizzata dobbiamo andarla a posizionare e quindi anche in questo caso poi non so se avrà anche qui in mezzo un auto size e quindi se possiamo sfruttare anche questa proprietà dopo potremo provare a pocciarci un po' io adesso cerco di tenere i riferimenti che vengono elencati qui la label ce l'abbiamo quindi qualcosa da vedere ce l'abbiamo intanto perché sarebbe interessante vedere se intanto qualcosa viene mostrato a video come lo vediamo dobbiamo andare a creare qui la nostra mainform quindi la scrivo così con una variabile locale mainform che è la classe in questo modo lo creiamo il suo owner è l'application del fiano per così dire quindi application e poi mandiamo in run stanno che non abbiano fatto un qualcosa tipo create form ma vabbè poi vediamo facciamo uno show ecco forse quello che devi un po' dallo standard è questo questo usare andrebbero scritti così quindi se avessimo uno show modal in python dovremmo scriverlo così ma per non andare a riluminare tutto probabilmente hanno adottato questo espediente di usare dei metodi con la sintassi tipica di più tipica di delfi che non quindi finché possiamo usarla vabbè usiamo la usiamo per il resto io farei uso appunto di andrei con con lo standard tipico di python a meno per cosa manca allora qui vedo che c'è oltre allo show c'è anche un free console che però non ho idea di cosa di cosa ci stia ad indicare però lo vedo nell'esempio application run anche qui potremmo farci qui non l'hanno messo però potremmo metterci un try finally app destroy ah la finestra vabbè quando finisce l'applicazione teoricamente la fine la finestra dovrebbe terminare mi viene da dire vabbè non mi faccio troppi problemi già non so neanche se parte quindi chiamiamo questa destroy il programma principale è un po' un scheletro da rendere snippet da ripetere perché alla fine sarà poi in realtà sempre uguale come vale poi per la maggior parte dell'applicazione di delfi farò vedere se succede qualcosa o se va tutto in errore c'è un errore su main init takes one position and arguments but two were given ah giusto qui ho passato un valore qui ho messo solo self ma ci vuole anche owner però dobbiamo passarlo anche al set bounds oddio ho fatto ho fatto tre lati invece che quattro su una label incredibile 10 10 105 25 ok qui qui me l'ha un po' troncata però vediamo se questo torna il controllo potremo anche poi dunque questo lo vorrebbe così vediamo se lo accetta questo o non è che gli piaccia tanto beh scusa se ti do i bounds e il parent dopo ah perché l'ho ridimensionata io e quindi ok set bounds ok c'è questa funzione altrimenti immagino che si possa ma posso usare anche questa io sperimento un po' perché non la conosco e quindi vorrei capire questa direi che non ha avuto un grosso effetto magari c'è c'è un metodo di set o si usa sempre set props no digiomina autosize yes ah perché il valore è lo stesso quindi allora a me così non piace francamente cioè mi piace però potrei anche dire di vorrei vedere se si può fare anche così gli do il parent gli do la caption cioè questo ovviamente più efficace perché impostiamo più proprietà in un colpo solo allora facciamo così lo commento un attimino perché giustamente voglio un po' sperimentare e vedere se funziona tutto allo stesso modo sì cioè non cambia nulla non cambia quindi 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 si potrebbe fare questa cosa qui false caption poi impostargli la posizione e mettere autosize a true così ecco forse questo è il modo migliore di leggerla quindi se togli il set bounce però dovrei dovrei definire la posizione è quello cioè gli da la grandezza ma gli da anche l'inizio gli da proprio il riquadro quindi se tolgo il set bounce secondo me viene attaccato al bordo del viene proprio attaccato al bordo del anche se abbiamo i margini abbiamo abbiamo anche altri modi per allineare le cose quindi mi aspetto che più o meno tutto quello che c'è nella vcl magari c'è un set position che ne so io ma forse no perché se non c'è sul se non c'è su delfi dubito che ci sia anche qui infatti si è già arrabbiato quindi possiamo mettere parole possiamo fare così left uguale 10 top uguale 10 e lasciarlo commentato e forse funziona lo stesso sì quindi sì ho messo solo x e y però se questo elenco viene lungo direi che qui possiamo sempre gestircela anche così in python cioè non succede mica niente anzi io direi che lo leggo anche quasi meglio sembra quasi un dfm guarda proprio questo è sempre un po' per vedere come dire le parte della sintassi anche che ok funziona funziona uguale quindi questo l'abbiamo come dire portato a casa devo provare a togliere questo free console e vedere cosa combina non ho idea di dovrò documentarmi su quello che su quello che fa perché non quindi qui non abbiamo un application create form che prende questo e magari una variabile una cosa del genere ipotizzo forse no perché che form called with invalid arguments ok quindi allora c'è però mi sa che forse c'è da passare un indirizzo o qualcosa del genere però bisognerebbe vedere un po' la documentazione quindi abbiamo qualcosa del genere ma se ci fosse modo di questo pylines di farlo di configurarlo un attimo vai dove sono le estensioni opzioni dove sono le opzioni auto import diagnostic mode extra paths dovrei andarmi a pescare library code for types non c'è modo di fargli vedere anche site packages non riconosce i nuovi package relo window forse basta reload vediamo se reload window forse c'aveva ragione davvero no ecco come non detto mi ha dato un'impressione ma non mi ha undefined variable ma fa parte di fa parte di questo no 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 non ha funzionato proviamo a riavviarlo lo chiudo e poi lo facciamo ripartire vedere se adesso mi vede qualcosa di grazie riaprimi il file che avevo spero di averlo salvato oddio 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 non l'ho messo sotto tempo qualcosa del genere dimmi che lui che non mi devo suicidare sì poi questo lo apre ma poi finisce che run and the bug no non me lo non me lo risolvo peccato che sarebbe interessante avere un completamente automatico anche con questa parte di di delfi però che dire devo aver mangiato salato stasera quindi ok quindi ripartiamo quindi questo possiamo toglierlo visto che qui ci viene probabilmente più comodo farlo così qui mettiamo l'autosize a true però stavo pensando a questo punto se non usiamo set bounce dovrebbe bastare anche questo mi viene da dire ah aspetta che rimetto tutto com'era però lo tengo lì perché vorrei capirne qualcosa di più ok la nostra label viene fuori come si deve questo l'abbiamo capito a questo punto mettiamo giù una listbox una listbox ce l'avremo immagino allora in realtà mettiamo giù la casella quindi qui possiamo anche commentare definisco le proprietà del form inizializzo l'etichetta del si l'etichetta dai la label del suggerimento con tutte le sue belle proprietà e poi cosa andiamo a fare andiamo a mettere l'edit quindi vedete qui si usa allora new oppure task edit così qui andiamo a creare direttamente in self cioè usiamo l'oggetto del form se noi facciamo punto identificatore uguale valore nel costruttore equivale a inizializzare direttamente il campo non abbiamo ok salvo tranne attributi specifici o determinati scamotage abbiamo una programmazione oggetti che è supportata esiste però non ha come dire i crismi a cui siamo abituati proprio in delfi quindi è leggermente diversa ad esempio i campi privati si ottengono con delle convenzioni tipo degli underscore che stanno a indicare che il campo è privato tanto se non ricordo male con un doppio underscore l'interprete cioè l'interprete non è in grado di nascondere nulla perché è un linguaggio dinamico e quindi è un po' come javascript avete degli oggetti che sono dei dizionari quindi creata una chiave quella chiave accessibile ci sono degli espedienti tipo doppio underscore cose del genere che aiutano a creare un identificatore che però non è come dire ha un prefisso un suffisso che non è determinabile e nello script nell'esecuzione al posto di quel nome che voi scrivete ne viene usato un altro e quindi di fatto si crea un membro privato cioè ci sono un po' di scamotage non è come programmare ovviamente con un linguaggio tipizzato ma un pochino diverso quindi task edit facciamo di nuovo set props perché gli diamo ovviamente il contenitore in realtà poi una volta che queste cose più o meno si imparano secondo me diventa abbastanza come dire veloce andare a set props set bounce eccetera eccetera qui mi propone queste coordinate io quasi quasi le tengo e quindi inserisco la casella per la descrizione di una nuova attività da eseguire questi sono i commenti quindi questo è il costruttore questo è il primo parametro del costruttore ci crea il campo lo impostiamo lo muoviamo poi cosa andiamo ad aggiungere il pulsante tipo add button quindi scriveremo di nuovo button le classi che abbiamo qui sono quelle di delfi dove normalmente in delfi abbiamo la t per convenzione in python non c'è la t non si usa la t è bello che hanno seguito la convenzione su questo ma non sul resto ad esempio su queste proprietà che come dire non sono proprio sarebbe dovuto chiamare così se proprio volessimo essere pignoli ma contentiamoci che già hanno fatto un ottimo lavoro uguale perché mi sbiscia self is not defined attenzione all'indentazione che è pericolosa era indentato male quindi add button quindi cosa facciamo al nostro button facciamo di nuovo set props parent uguale self caption aggiungi aggiungi nuovo task tanto che mi poi che andiamo è l'indentazione fondamentale però vedete che cioè se per caso vengo indietro così ho già la segnalazione e se provo a eseguirlo indentation error does not match cioè questa indentazione non match nessun'altra quindi non è né troppo avanti né troppo indietro non c'è se devo indentare cioè se devo tornare indietro devo tornare indietro di un blocco quindi questo sono a livello della classe questo sono a livello principale se vado invece avanti si può stare ma mi dà errore lo stesso perché sarebbe la prima istruzione di un blocco che non ho iniziato perché i blocchi si iniziano con due punti nella riga precedente quindi cioè dovete indentare ma indentare viene facile perché se la sbagliate non vi prende proprio il programma quindi non o meglio vi dà errore se lo eseguite fin lì ci arriviamo però poi scoppia tutto come vedete nell'indicazione che c'è di sotto aggiungi aggiungi attività ok poi gli andiamo a mettere le coordinate sì è chiaro che diventa un po' come dire tedioso farlo in questo modo piuttosto che utilizzare un'ide full con progettazione però come dire si fa non è poi necessario creare chissà quante quali sarebbe interessante vedere una inheritance tra forme quindi creare anche delle interfacce però vabbè già è molto se riusciamo a tenere aggiungo il pulsante per inserimento nuova attività eccetera c'è qualcosa altro da fare su questo beh c'è l'onclick che non è cosa da poco quindi dovremo andare poi a definire delle funzioni che fanno poi da event handler anzi vediamola subito così vediamo qualcosa di interessante ad esempio la funzione che fa se noi avessimo volessimo togliere questi commenti essendo un pochino più come dire in linea con con gli standard diciamo avremmo potuto isolare ogni pezzo di codice in un metodo a sé stante ovvero qui abbiamo il costruttore quindi abbiamo la classe due punti a questo livello c'è tutto ciò che fa parte della classe potremmo dire facciamo un metodo def chiamiamolo init int label ok con i due punti con le parentesi dei due punti e qui inizia una istruzione quindi metto il segno a posto al posto però di quello vado a mettere ad esempio questa roba qui self va sempre passato perché altrimenti non è un metodo quindi e al posto di e qui metto ad esempio la chiamata quindi qualcosa del genere ma il punto e virgola è solo delfi c'è già questa settimana tra javascript e init task edit quindi le procedure c'è il nome le parentesi e con self diventa un metodo due punti e poi ci va almeno un'istruzione indentata però ci metto quello come segno a posto e ci butto questo così come dire abbiamo siamo un pochino più non lo so strutturati vabbè non più di tanto avremmo potuto fare un init component e mettere dentro tutto però così abbiamo un metodo per ogni controllo init abbiamo l'add button self una volta che poi ci si prende la mano il codice diventa abbastanza veloce da scrivere poi se l'idea ovviamente ci dà una mano diventa anche ancora più comodo possibilmente quindi definisco proprietà e poi inizia i inizializzo i controlli uno per uno fatto così perché così abbiamo poi l'idea tende anche vi dà anche appunto la possibilità di collassare queste cose ad esempio sull'add button dobbiamo gestire l'evento di change cioè l'evento di click per andare ad aggiungere qualcosa alla casella del alla listbox con l'elenco delle attività questo ovviamente va gestito in qualche modo quindi torno a livello della classe metto un def e metto l'eventender a questo punto non so se ci sono beh l'esempio segue proprio gli standard e quindi usa proprio il doppio il doppio underscore che crea di fatto un membro privato qui cosa ha usato ha usato add ha scritto ad esempio button beh io direi di farlo con lo standard di appunto di python ovvero usando gli underscore le minuscole questo doppio underscore davanti che fa sì che sia privato ecco questo è un espediente che se non ricordo male nel codice nell'interpretato rinomina il metodo in un modo che non si può qui per completarlo dobbiamo mettere almeno un'istruzione pass questo lo useremo è come un callback quindi per associarlo all'evento negli eventi ci va self perché questo è un metodo quindi per renderlo metodo va sempre aggiunto questo parametro self e poi mettiamo il sender in quanto questo è il primo dei dei parametri che troviamo normalmente in delfi nel questo è il famoso tnotify event cioè quella cosa che è fatta così procedure cioè un sender di object off object lo troviamo così se non ricordo male e quindi a questo punto proviamo andarlo ad aggiungere al nostro simpaticone come lo aggiungiamo proprietà onclick in questo caso va assegnata a self punto doppio underscore add button onclick senza parentesi se no la invochiamo cioè queste sono regole che valgono in realtà anche in in delfi del sender qui non ce ne facciamo nulla però fa lo stesso quindi l'abbiamo configurato inizializzato poi immagino che anche qui si possono mettere tutte le non so tipo il default a true perché quando parai mi invio è di default magari con la e ci viene l'underscore per fare alt a cioè vediamo se c'è proprio tutto 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 perché qui nell'esempio non se ne è fregato ma voglio io voglio sperimentare un po' quanto l'hanno resa completa questa quindi qui c'è un click qui metto un pass e poi lo andremo a fare altra cosa beh manca la listbox a questo punto facciamo un vedete che provo a rinominare anche questi dovrebbe fare refactoring visa studio code e quindi no init va bene così e quindi dovrebbe venire rinominati anche qua bravo così sono proprio dei metodi privati quindi proprio a regola d'arte ok quindi mi vado a fare anche la listbox perché sono un vizioso init task listbox self metodo io metto sempre il pass dentro così ho fatto la struttura compilabile la listbox quindi come la facciamo la facciamo così facciamo self punto task listbox potremmo anche abbreviare un po' listbox auto import no questa non è quella che voglio io ma viene dati framework la listbox poi facciamo come sempre task listbox set props parent uguale self perché va mostrata avremo senz'altro un altro set bounce com'è che la posiziona questa in maniera 300 50 300 350 e nelle proprietà cosa avremo ma niente di che perché poi alla fine è una listbox quindi ha già gli item fa vedere gli item parent uguale self ok quindi dovremmo essere in grado di scrivere anche il button click per aggiungerlo quindi come facciamo volendo potremmo rendere privati anche questi ma facciamo self task listbox punto items punto facciamo proprio come lo faremmo in delfi mi viene da dire quindi andiamo a prendere self punto task edit punto text che è il testo della casella di testo poi task edit punto clear o mettiamo il text stringa vuota o facciamo clear mi sembra ce l'abbia il clear per pulire il memo e l'edit ok ci mancano poi le chiamate app self punto underscore init task listbox quindi l'add button l'abbiamo messo l'abbiamo assegnato col click abbiamo la listbox la listbox aggiunge poi pulisce ok quindi a questo punto che si fa che si fa che si fa lanciamo e vediamo cosa succede scrivi una nuova cosa da fare testare il demo in python l'ala l'ha sottolineata quindi questo ce l'ha e se faccio invio ed è default dovrebbe aggiungere in automatico ottimo quindi l'ha messo prova uno due tre abc ecce ecce ok togli il passo alla fine fine giusto ah ce n'è una anche qui perché poi me li scordo adesso non li metto più è una brutta abitudine che va già non fa niente perché è proprio l'istruzione che non fa niente serve per per tenere un posto da dove però direi che funziona funziona fin qui per esempio qui c'è un elimina e c'è anche un come dire un potremmo mettere un delete un clear la cosa che mi piacerebbe sperimentare si dai mettiamo anche il il delete così siamo siamo contenti allora def init del button self due punti allora facciamo self punto del button uguale button self e tutta la pardella set props proprietà comodo però anche questo impostare le proprietà come dire tutto in una tutto in una botta elimina no default niente self del button punto set bounds e lo mettiamo beh qua vediamo dov'è che lo lo inserisce finché finché siamo lì abbiamo già le quindi questo è left top height e width mi viene da dire quindi quindi potrei anche definirne già un altro init clear button self self punto clear ho usato tre lettere per tutti c'è button button self mi sono spostato un po' troppo self clr button set set props parent uguale self ok e poi mettiamo una caption uguale pulisci pulisci tutto self punto clr button set bounce di nuovo questo va bene così cosa ha fatto un 45 quindi io qui potrei metterlo a 165 stesse dimensioni così lo metto poco sotto tiè così voglio proprio voglio esagerare esci esci qui andiamo un po' più un po' più giù spostiamoci un pochino più giù più giù più giù e mettiamo vabbè dopo gli vado a definire anche tutti i click quindi self init del button e poi abbiamo anche questo ah perché l'ho scritto per intero ok va bene e abbiamo anche l'exit così li abbiamo definiti tutti io qui faccio un po' di copia e incolla perché altrimenti allora dead button click lascio un attimo lì che poi me lo scrivo poi abbiamo da codificare il clr button click e l'exit exit button click tiè un po' di sano copia e incolla che non guasta mai e ho questo scripting quindi qui si scrive codice a tutto spiano ops grazie e poi c'è da cambiare anche questo ovviamente perché questo diventa del button on click questo diventa clr button on click exit button on click init task init task qui ho fatto un po' troppo questa non c'entrava ma è un errore di copia e incolla allora il clear direi che è abbastanza facile perché prendiamo la nostra task list box e la puliamo l'exit è un self punto close mi ha da dire il del mi piacerebbe però metterlo sotto if ce l'avremo le message box o qualcosa del genere ma vediamo application guarda l'exit ha ridefinito clr button o cosa intendi ah ho fatto copia e incolla che è una bella cosa ma no qui ci mancava proprio completamente ok grazie per la segnalazione perché chissà che avremmo avremmo avuto dei dei problemi abbastanza dunque però ce la show message ce ne manca uno non so dovremmo essere a posto quindi se vedete altre cose allora add button message box non sono sicuro che funzioni però proviamo sei sicuro di voler cancellare l'attività perché io ho visto qualche mbs mb no però 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 teoricamente dovremmo avere importato tutto quindi dovremmo avere tutto a portata di mano wind sound qui vedo di altri moduli in questo caso mi viene comodo perché come dire questa me la dovrei un attimo non mi ricordo i parametri di application message box quindi application message box questi me li devo studiare nella documentazione abbiamo il text caption poi abbiamo i flags ok quindi roba tipo mb yes no se no ricordo male non so se è scritto così vabbè che lo possiamo vedere sempre anche qua no è scritto così giusto poi abbiamo oltre i flags basta ci manca i due punti per andare a capo anzi facciamo così se è diverso da yes return dobbiamo anche controllare che ci sia allora ci serve l'item index giusto si quindi item index o selected index la list box c'ha la c'ha l'item index se non ricordo male no perché poi la documentazione che si va a leggere è sempre questa poi quindi questa è quella di firemonkey però vorrei questa qui grazie grazie che magari è proprio la proprietà che è diversa sembra sia l'item index quindi item index però forse c'è anche un selected index ok però questa c'è quindi item index uguale self task item index quindi if item index minore di zero due punti return perché due punti sempre a inizio blocco e poi si va a capo se non dico yes c'è una parentesi di troppo esco in tutti gli altri casi faccio self task list box appunto delete come si fa a delete di un di un elemento items punto delete quindi ad esempio ho fatto presto ho fatto delete zero items punto delete di item index non funzionerà mai perché abbiamo scritto un po' troppo codice allora prova aggiungi elimina non fa nulla se invece lo faccio selezionato abbiamo un problema di encoding di utf8 quello direi che è abbastanza evidente anche se è strano perché qui l'encoding è utf8 e quindi sembra quasi che l'interprete lo voglia quindi se dico no ah c'è andato in errore did you mean yes no ah aspetta il valore di ritorno non è quello però qui continua ad andare giusto questa è già una buona cosa perché vedete che c'è il vantaggio di avere il come dire il ciclo di gestione dei messaggi occhio che lancia un bug siamo pronti ne abbiamo già abbastanza stasera quindi stasera però la giustificazione non non funziona ma non compilo perché stiamo lavorando con python e quindi interpreta e quindi interpreta male non va quindi pulisci funziona ok questo funziona lesci funziona ah perfetto quindi dicevo c'è la robustezza anche dell'event loop di delfi cioè se ultimamente non mi incazzo sono un po' incazzato perché mi sembra che tu ci stai prendendo noi in giro ti diverti con nostro tempo bravo complimenti grazie bastianic ci voleva un po' come cosa che stavo dicendo a bastianic che si in caso di errore non scoppia come fa gli script normalmente perché c'è il catch di della della vcl che cattura fa vedere l'eccezione e poi l'applicazione riparte quindi ci portiamo indietro indietro anche la robustezza del della struttura tipica del adesso torno alla message box cioè com'è che queste cose me le ricordo normalmente ok il valore di ritorno è id yes è questo cioè è bello andare a caso beccare cioè riuscire a farlo funzionare e sbagliare una costante cioè la cosa però hanno portato veramente un sacco di roba bisogna dire ci hanno messo anche delle delle cose allora vediamo dai scriviamo qualcosa di allora parlare con bastianic finire il demo andare a dormire spegnere il computer ok proviamo a eliminiamo la cosa che non faremo sei sicuro di una cancellata l'attività no ok stavolta è rimasto lì se gli dico sì ok sparuta quindi a questo punto funziona funziona anche questo funziona anche l'inaminazione è la diretta quindi devo capire allora questo è utf8 già dovrebbe andare bene come faccio a sceglierlo come encoding forse devo mettere un utf16 o qualcosa del genere boh c'è il file utf8 allora volevo intanto faccio una prova con uno script normale lo creo proprio da zero qui fuori faccio prima cioè se io lo carico e gli dico print test unicode attività qualcosa ha fatto così e lo lancio qui lo scrive bene quindi è la vcl che l'interpreta male non lo so non lo so questa è una cosa da da provare a indagare per capire se l'encoding è anche vero che io potrei cambiare l'encoding del file select encoding save with encoding però più che utf col bomb proviamo questo allora prima c'è raggiungere un'attività poi devo sceglierla no non cambia niente quindi però questo si viene fuori corretto quindi questo è un glitch che mi che mi dà da fare un pochino quindi sto pensando sto pensando a come potrebbe risolversi beh c'è c'è un modo mi metto un windows 1.252 e in questo caso forse l'abbiamo gestita però non è proprio il massimo anzi poi non è neanche detto perché appunto banode coding declarated cpap for details cioè c'è qualcosa all'inizio che si reopen with encoding quindi utf8 è il suo è il suo è il suo andiamo a vedere cosa dice in stone ink che sono curioso quindi potrei aggiungere una cosa del genere cioè quindi se lui si trova qui un commento fatto così windows 1.252 a quel punto lo accetta perché a quel punto lo accetta attività qui lo scrive bene qui continua a scrivere lo schiazzato però però il dato lo prende bene quindi c'è da capire bene che API sta andando a invocare però mi pare strano questo effetto collaterale esci ok chiaramente sarebbe molto più divertente se ci fossero delle azioni magari definite forse funziona messagebox v con la v finale potrebbe essere una buona idea allora intanto lo risalvo con il suo standard originale si hanno portato proprio tutte le funzioni però già quello dovrebbe puntare a quella standard allora aggiungi inserisco no non non è proprio definito quindi quella è l'API quindi potrei anche chiamare direttamente l'API quindi tipo messagebox chiamata come API quindi no non questa la messagebox function vuole di più l'handle e qui gli passo application punto handle o anche self punto handle che secondo me è uguale aggiungi elimina not defined sono rimasto un po' deluso questa di suo mi sa che non l'abbiano proviamo così poi se non funziona mi sa che dovrò usare qualche qualche scamotage altrimenti c'è la message dlg quella di delfi che mi è sempre piaciuta pochissimo ma magari hanno fatto perché non tiene conto del linguaggio a meno di non fare un po' di come dire allora facciamo così questo ce lo teniamo e me lo commento ci vuole il messaggio voilà dlg type ha il tipo di dialog mt confirmation qui abbiamo mr yes no giusto cioè abbiamo mr yes mr no mi vedere ora così proprio lo copio paro paro ok questo è il default ok a questo punto si oppure scrivi attività è giustamente infatti immagino che comunque in giro qualcuno abbia già cercato volevo intanto sperimentare un pochino questo non so se lo posso scrivere così però si perché diventa una lista se voglio passare un set i due punti però si forse la sintassi non è corretta quasi sicuramente non è corretta no niente da fare questo non l'hanno portata quindi anche se mi sembra strano c'erano le costanti ma forse c'è da importare qualcosa di qui si parla di 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 ah eh però qui ci sono dei puntatori cioè in Delfi a parte che non c'è bisogno di farlo però ci sono senz'altro le possibilità perché dovrebbe convertirsi in potrebbe anche essere un bug quindi vabbè io lo metto così che questo sicuramente è corretto manca parentesi manca no oh ci manca qui una parentesi sono riuscito anche ad aggiungere uno vuoto sei sicuro di vero che in realtà si ok vabbè più o meno qualcosina abbiamo ottenuto la cosa interessante sarebbe provare a mettere giù delle azioni piuttosto di questa roba qui a parte che vabbè in realtà potremmo potremmo agganciarci anche a un evento tipo l'onidol che mi sembra che ci sia sul sul application onidol forse mi confondo con dotnet no c'è anche qui che è quello che viene appunto eseguito quando la tutti gli eventi sono stati sono stati eseguiti potremmo fare una cosa del genere ovvero dire o a questo livello o non so a quale livello perché poi vediamo beh mettiamo qui dove ci sono tutti gli eventi facciamo def app o application onidol self e sender che è fatto così a cosa dovrebbe servire a dirmi ad esempio self punto add button punto enabled uguale qual è l'operatore deve essere l'en che mi dà la lunghezza della string o length o punto length adesso non mi ricordo più o moment di lapis comunque il buon vecchio hash è ancora valido per capirci di geogliff ci si oppure quando vivremo di klingon visto che in unicode c'è anche il klingon a quel punto vedremo che volevo sapere ah si come diavolo come diavolo sono divertito con le stringhe in un in un certo punto ma non mi ricordo mi sembra di ricordare un banale length però però sono in sì dai length per forza self scusate sarà oh veramente c'è un buco di un buco di memoria incredibile python string length c'è il metodo esatto c'è il metodo no c'è l'en ok allora andava bene allora mi ricordavo bene qua mi propone dell'altra roba item nel container sì allora length edit di self punto add anzi task edit text che è il testo punto trim maggiore di zero ok poi potremmo dire che il del button è abilitato quando la self task list box punto item index è maggiore o uguale a zero self punto che potremmo anche racchiudere in un altro metodo geroglifici beh lei accentata italiana non è proprio un geroglifico ma è già qualcosa di più poi un'altra cosa anche il clear button potremmo qui ci potremmo aiutare con una variabile del tipo list empty o meglio list not empty così facciamo questa cosa in un colpo solo questo tiriamo via quindi application on idle dobbiamo andarlo agganciare potremmo fare così application punto on idle uguale come l'abbiamo chiamato self punto application on idle non ho idea se l'hanno portato e se funzioni event handling is available only for published properties me l'hanno nascosta me l'hanno nascosta questi bastardi tocca definire un action list solo per questo no dai quindi qui potremmo dire self punto task actions uguale si hanno portato anche l'action list hanno fatto veramente roba self punto on on update in questo caso self punto application on idle che poi diventa task actions on update ok qui la invochiamo vediamo se quindi questo non possiamo perfetto non mi sembra che funzioni manco per niente in realtà però il metodo forse non è anche così non è che corretto o sì ci manca l'endled questo non è delfi questo è python cioè non è delfi è visual studio code questo è delfi for vcl for python ovvero python scritto programmato con visual studio code in cui abbiamo installato le librerie per python che sono in realtà la vcl di delfi ovvero la la libreria visuale che si usa tipicamente in delfi per creare le applicazioni che in questo caso tramite un bridge viene chiamata da python quindi manca l'ide manca tutto però di fatto si riescono a creare gli stessi componenti e usare gli stessi strumenti che si usano dall'altra parte e quindi chi lavora in python può di fatto costruirsi un'interfaccia utente usando una libreria in più rispetto a quelle che già ci sono che alcune come dire sono un po' secondo me bruttarelle allora t action list update siamo scordati mi sa un un evento action no questo va bene tirami fuori l'action event che vedo come è fatto è un pezzo di codice sì ma questo è l'action è l'evento dell'azione singolo quindi io volevo l'azione sulla action list mi ricordo che c'è la firma con un handled o roba del genere però al momento non mi viene in mente no lancio delfi lo vedo a questo punto cosa va a gestire i pulsanti quando aggiungi sì no quello quello funziona di certo però quello che io volevo un po' capire è anche ciò che hanno portato effettivamente da una parte ciò che effettivamente si può utilizzare perché le action list sono molto comode andare a definire come come comandi cioè al momento non le sto usando però c'è un evento di idol dove c'è la possibilità però a cavolo application on idol non è published però c'è application events adesso che mi viene in mente adesso prima di chiudere qui faccio un po' di controlli però è vero che i delfi non si agganciano gli eventi direttamente ma c'è il quando si degna di stai facendo lo siamo timidi qua stai caricando non mi interessano i package ole allora windows vg l'application c'è il componente che si chiama application events quindi questo si è delfi 11 anche quello delle librerie che ci sono direi in delfi for vcl allora action list ha l'evento on update che prende action e anche un end led però c'è l'application events che forse lo hanno portato con questo on idle con questo done a true che non mi ricordo cosa sta a indicare quindi potrei provare con questo ovvero commentiamo un attimo questa roba qui questa è proprio sperimentazione pure self allora app events uguale application events e poi proviamo a dargli on idle uguale self punto task action on update che però non va fatto così ma va fatto con il sender e poi con un parametro done che viene passato però per riferimento qui ci vorrebbe un po' di di codice qualcosa da convertire per capire se poi lo metto in fondo tra l'altro fammi vedere se application event is not defined no non l'hanno messo non c'è non c'è proprio il componente questa volta peccato perché avrebbe fatto molto comodo un update ok quindi rimango sulla action list a questo punto che quella c'è anche se non gliel'ho vista non ho vista aggiornare però può essere un problema di firma di metodo perché vuole una basic action è un parametro end led vabbè se funziona bene se non funziona a fallistesse oddio cosa ho fatto non mi sembra che funzioni tantissimo ma ci entra qui dentro ma adesso uso la listbox come log items punto add ping giusto per capire se quest'azione no qui dentro non entra quindi però l'evento on update l'hanno inserito quello si è anche vero che non ce n'è con azione quindi curioso curioso perché la metta all'inizio no non ce l'abbiamo questo non ce l'abbiamo proprio non penso che serva almeno un'azione per fermarsi qui all'interno mi viene da dire forse si forse ci vuole almeno un'azione nel gruppo per per far sì che lui entri in quel in quel metodo lì no non sta entrando neanche adesso quindi curioso cioè quindi stasera le action non funzionano non è che sto facendo come le ocche di come si dice alle mie parti le ocche di bagnet che si negate in delta cell allora ok come fai a non entrare qui dentro allora facciamo sparire questo istantaneamente che aspetto che venga eseguito continuamente quasi adesso entra allora ci vuole ci vuole qualcosa che trigger ok dovremmo creare le azioni e collegarle tutte ma diventa troppo diventa forse un po' tanto ma neanche tanto però diventa un po' lungo da fare quindi non so se se al momento ne ho tutta questa voglia actions però dai potremmo anche provarci facciamo un self ad action proviamo con quella di cancellazione set props caption cancella così la riconosciamo e neanche bastiani c'ha voglia sembra giusto per tempo poi vedo siamo già mezzanotte quindi siamo già self punto del button punto action uguale self punto del action questo giro infernale qualcosina ha fatto anche se non abbiamo il click sul del punto on execute uguale self del dovremmo fare questa cosa qui questo non è assegnato quindi proprio non oddio che roba ho fatto qua che poccio ho fatto ecco perché non si vede niente il cancella lo esegue però quando clicco non fa nulla mi sono scordato di nuovo task action on update questa funzione qui non ha molta voglia di funzionare per qualche strano motivo diciamo che qui mi serve un po' di investigazioni più potremmo dire quindi del button on click questo dovrebbe funzionare tranquillamente a meno che non dobbiamo aggiungere le azioni alla lista ma fammi vedere nel source ok qua controllo le immagini contained action list ha la sua lista di actions add action è protected paramo ok 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 diciamola così abbiamo un attimo a rifinire se aggiungi l'azione al bottone ah ce l'ho messa l'azione al bottone ho fatto del button punto action infatti fa vedere anche la scritta però non va il non va non execute del pulsante e quindi non so che problema potrebbe esserci però si diciamo che bisognerebbe guardare un attimo con più calma allora tolta questa sperimentazione però nell'applicazione direi che annetto dell'eliminazione che adesso farò così ovvero commento questo e in questo modo dovrebbe funzionare prova 1 2 3 elimina torno indietro elimina si quindi grossomodo gli altri non li ho toccati quindi item index maggiore uguale di 0 ah si ah giusto i reference se l'item index è maggiore di ah c'hai ragione non è item index item count quindi eh però all'inizio questo dovrebbe non dovrebbe essere maggiore di 0 questo è l'item count è ok fin qui fin lì direi che anche qui mi fa un ripasso disbox 1 item items punto count potrei fare così maggiore di 0 questo è pacifico però vedo che è il resto che non viene però la lista parte fate che la proviamo no questa la svuota completamente quindi maggiore uguale a 0 no in questo caso è maggiore di 0 cioè vuol dire che devo avere almeno un elemento ma in realtà l'ha bene item index perché se non c'è nulla vale meno 1 se ci sono elementi vale l'indice dell'elemento selezionato oppure meno 1 quindi in realtà item index andava bene perché no allora qui ci sono due in realtà ok in realtà ho fatto questo errore ovvero qui devo avere almeno un elemento per farla del devo avere almeno un elemento selezionato quindi ci sono due in realtà due controlli diversi però non ne vuole sapere quindi per qualche motivo e per cui adesso vedrò se per le azioni ci sono delle delle cose in più da fare oppure se se c'è qualche bug quindi magari si continua a sperimentare un pochino niente dai direi che stasera siamo quasi alla mezza di ritorno ritorno qui è interessante comunque nel senso che c'è il porting di roba che non ti aspetti quella che ti aspetti non funziona invece no hanno portato un discreto quantitativo di elementi effettivamente quindi è una cosa abbastanza interessante non abbiamo visto come si applicano gli stili giusto è una buona forse è anche una cosa abbastanza veloce quindi che devo devo tornare indietro gli stili in realtà vediamo se becco c'è c'è però negli esempi che io sappia negli esempi che ci sono sul sito adesso vedo se riesco a beccare oddio qui se li va a creare addirittura li va a creare a caricare da fuori quindi dovremmo avere da qualche parte un file dem da caricare però è possibile effettivamente farlo usando lo style manager perché non abbiamo possibilità di incorporare le source in questo caso cioè quello che in realtà noi stiamo stiamo facendo uno script quindi tutto al più potremmo avere il file del tema all'esterno e andarlo a caricare in qualche modo dentro la finestra ovvero creare lo style manager e poi fare la load del file che è il file dei temi dov'è che li trovo forse sulla cartella pubblica dove ci sono i documenti pubblici embarcadero studio vado a botta di styles quindi dovrebbero essere o questi style o questi vsf style forse sono quelli di file monkey layout layout sì questa è la roba di file monkey lo style click guardando come viene usato ad esempio lo style manager perché abbiamo anche il problema di come dire no documentazione al momento ovvero noi usiamo quella di quella di delfi per avere un un riferimento su quelli che sono in realtà non devo cercare questo ma questo activity style load from file file path ok quindi basta questa roba qui e lui carica ci carica lo stile quindi qui al post del file path potremmo dire mettiamoci spero che usi la cartella corrente no qui in effetti no quindi ce l'ho sposto io se copio uno di questi file facciamo un emerald light slate no prendiamo il glossy che è anche il nome più corto e lo incollo qui e poi proviamo a fargli caricare glossy.wsf farsi il nome poi lancio il programma non succede nulla perché secondo me non l'ho messo come quello attivo probabilmente sml load from file ok una volta che l'ho caricato set style set style perché caricarlo vuol dire poi solo portarlo all'interno nell'ambito del del progetto quindi di fatto si carica una risorsa vediamo se è sufficiente chiamarlo così direi di sì caricato lo stile e poi impostato come quindi abbiamo questa bella cosa da fare cambiare lo lo stile dell'applicazione aggiungi bla 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 alta alta ah questo è carino si vede si vede discretamente bene tutto stilizzato anche questo quindi diciamo di no se no diciamo di sì lui elimina pulisci esci quindi c'è anche sì gli stili questo hanno fatto bene portarlo perché giustamente con l'interfaccia è proprio il valore aggiunto quindi il fatto anche di fare qualcosa di graficamente un po' diverso chiaro che in Delphi ce l'abbiamo come dire un pochino un po' più comoda perché andiamo nelle opzioni dell'applicazione troviamo il la nostra appearance quindi quel load from file è l'equivalente di tirare su praticamente il tra l'altro quello proviene da Delphi Styles quindi da qualcosa di esterno tra l'altro qui abbiamo la preview quindi ci fa vedere graficamente come come verrebbe questo è il grey questo è il silver quindi questo è l'equivalente di fare il nostro load from file poi quando l'abbiamo caricato possiamo scegliere quale dei due utilizzare normalmente non vediamo nell'id la differenza però da Delphi 11 direi che c'è una cerchiamo dem enable id deming no questo è già è già posto nel form designer enable vcl style save e ci viene tutto stilizzato con col tema del che andiamo a caricare quindi più ne mettiamo e più ne incorporiamo questo è azzurrino però ne sceglieremo ovviamente uno attivo quindi o li incorporiamo come risorsa oppure rifacciamo load from file e distribuiamo i file e una volta che ce li abbiamo all'interno c'è il nome identificativo se lo impostiamo come attivo tutto ovviamente viene colorato impostato in in questo modo e a parte che adesso abbiamo addirittura uno stile per controllo quindi qui abbiamo style name qui potremmo dirgli che lui è obsidian questo potremmo metterlo invece come iceberg possiamo dare controlli temi diversi a controlli diversi quindi quello è un sul pulisci metti l'avviso occhio che elimino tutto si infatti inizialmente era destinato a quello di pulsanti però poi subito non l'ho messo si da ci sta così dovremmo anche vedere se c'è qualcosa da cancellare però dovrei clear qua di voler eliminare tutto più che eliminazione e pulizia si poi ci si potrebbe fare tutti i ricci i ricci che vogliamo per così dire quindi ha le sue potenzialità interessanti da questo punto di vista ok si è fatta una certa vediamo se c'è qualcuno che sta sviluppando in maniera pure fine a quest'ora no sono io l'unico sfortunato che si che si diverta quest'ora a fare questa roba stasera si cilla cosa vuol dire non lo so c'è roba strana vedo sono cose strane questo è l'orario un po' di oddio avrei perché lo streaming non è ancora partito avrei un canale interessante da proporre però è molto borderline si potrebbe dire quindi per riassumere un pochino c'era il biondi ho visto ma strano perché di solito dura di più a volte alle due e mezza è ancora lì che sviluppa ormai ne hanno fatti talmente tanti ha delle potenzialità bisogna dire quindi forse è ancora un po' acerbo è un po' scomodo ovviamente rispetto a quello a cui siamo abituati però non è non è così malvagio perché comunque si vede che alcune cose si possono come dire si possono sviluppare e si riesce anche a utilizzare i temi a usare dei controlli probabilmente anche le azioni adesso io lì ho buttato tutto un po' la rinfusa alla fine quindi non è proprio come dire il massimo il massimo della vita andrebbe un attimo rifinita questa parte però era giusto per sperimentare per vedere se come la veniva utilizzata nel webinar eccetera era effettivamente così così easy oppure se c'erano altri passaggi però apparentemente installato il package scrivendo andando nello script a netto di quelle istruzioni application che saranno uguali dappertutto sarebbe come dire cioè comunque si utilizza e l'interfaccia effettivamente esce quindi chiaro che se c'è qualche modo per esportarsi come dire delle proprietà in in maniera più comoda sarebbe l'ideale piuttosto che fare quel DFM binario cioè esportare da Delphi in maniera un po' più intelligente come codice non sarebbe male tipo fare un'copia un'incolla come definizione però è anche vero che abbiamo visto che alcune cose dipende anche un po' dal prova questi vanno bene per consigliare il sonno oddio questo canale non l'ho mai visto quindi gli butto gli butto un occhio perché sono curioso e quindi magari non sono non sono italiani direi di no forse probabilmente no accidente questo è del 1986 qui non c'è però nessuno che sta gestendo questo come dire questo canale a livello di live ci sono dei filmati di informatica vecchissimi quindi mi ricordo un po' gli spot di gli spot di Steve Balmer che tra l'altro ce lo dovremmo anche avere da qualche parte developers sì lì lì vediamo se è ancora operativo Balmer mi sa di no si è assopito developers developers niente stasera non funzionano strano perché sarà si sarà assopito il si è addormentato pure Steve Balmer quindi bello comunque roba roba veramente questa sì che è old times vera e propria no per cui diciamo sono favorevolmente favorevolmente impressionato nel senso che comunque incapsulare portare su python cioè questo bridge funziona comunque bene perché sul risultato sul risultato l'ha dato quindi qualcosina più di qualcosa funziona per cui è utilizzabile è chiaro che probabilmente andrà un po rivisto ad esempio quel problemino con l'unicode potrebbe essere qualcosa da sistemare e quindi qualcosa da perfezionare sicuramente c'è è vero che la prima versione non so neanche se è una versione 1 ma è ancora è ancora 0 quindi in questo caso c'è ancora magari un po di strada da fare però tutto sommato ok ho trovato vi ho trovato dove fare il ride che andiamo off topic però secondo me è un genio perché questo è veramente un genio quindi perché sapete l'SMR sapete cos'è se siete iscritti a Twitch questo è un personaggio che prende in giro le le tipe che fanno ASMR e quindi che si dilettano sui microfoni e fanno cose di questo tipo e si diverte travestisce fa gli stacchetti e fa veramente morire da ridere soprattutto quando quando imita le varie le varie streamer che fanno sta roba qui tutte le volte che mi viene in mente vado a vedere perché quindi non c'entra con la programmazione anzi veramente però fa veramente veramente divertente intanto grazie come sempre quindi rimanete collegate un attimo anche giusto per la curiosità grazie per aver seguito la live direi che abbiamo sperimentato abbastanza tutto sommato qualcosina funzionava quindi anche se improvvisando un risultatino l'abbiamo portato a casa bisogna che me lo studi un pochino di più però potrebbe essere una cosa interessante poi da approfondire da portare avanti si domani si lavora lavoro anch'io quindi poi andrò andrò a letto quindi grazie di nuovo a tutti faccio partire intanto il il ride così vi faccio anche un po' divertire vi ringrazio di nuovo per la compagnia e per i suggerimenti soprattutto e direi ci vediamo con python funziona anche se non compila beh funzionava così ma alla fine ha funzionato dai qualcosa funziona pur interpreta quindi va diciamo quindi è andato ok grazie e direi buonanotte a tutti e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti